Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Siamo ovviamente all'inizio del mese di marzo, quindi è il momento per parlarvi delle letture fatte nel mese di febbraio. Febbraio, nonostante fosse un mese un po' più breve degli altri, sono orgogliosa di poter dire che sono riuscita a leggere 5 libri. Quindi alcuni mi sono piaciuti più, alcuni meno, generi molto diversi l'uno dall'altro, quindi direi di cominciare subito. Il primo libro che ho letto a febbraio è stato La felicità con il metodo Iggy. Praticamente questo è tipo un manuale, non so come si potrebbe definire, comunque di sicuro non è un romanzo, nel quale si parla praticamente del metodo Iggy, quindi il metodo di vita danese che ha reso il paese della Danimarca uno dei paesi più felici al mondo, dove le persone sembrano essere veramente più felici di tutti gli altri stati d'Europa. Quindi è di questo praticamente che parla il libro, dei vari aspetti della vita di un danese, cercando appunto di darci consigli per migliorare anche la nostra vita e viverla in maniera un po' più felice per l'appunto. Gli aspetti che tocca sono diversi, per esempio parla del lavoro, parla del tempo libero, dell'arredamento della casa, del cibo, dell'illuminazione, dei rapporti con le altre persone e così via. Direi comunque che i punti principali che tocca sono il cercare di riprendere i contatti con i nostri vicini, con i nostri amici, quindi fare attività in comune, attività all'aperto, attività che coinvolgano tante persone, perché questo pare essere per l'appunto uno degli elementi più importanti per essere felici, quindi condividere le nostre esperienze con altre persone ed essere felici insieme. E un'altra cosa che risulta essere molto importante è un po' un ritorno alle origini, quindi all'artigianato, al fai-da-te, all'acquistare cose insomma fatte a mano, uniche quindi nel loro genere, o il cercare di arredare la casa in maniera più naturale possibile. Addirittura anche quando parla del cibo privilegia ovviamente i cibi coltivati direttamente da noi oppure presi direttamente dai produttori, quindi diciamo è un inno alla semplicità, all'originalità, al cercare di essere un po' più unici e meno standardizzati e a accontentarci delle cose più semplici che a volte sono anche quelle che ci rendono più felici perché appunto sono un po' più legate al nostro animo. Il libro chiaramente è interessante, è un libro da leggere ogni tanto, magari quando siamo sul divano, davanti al cammino, abbiamo voglia come di sfogliare una rivista. Inoltre il libro è pieno di immagini molto molto belle che ovviamente aiutano a capire meglio tutte le informazioni che ci vengono date e che insomma tendono anche, ecco guardate, a creare l'atmosfera giusta e a metterci nel mood giusto per cambiare la nostra vita. Quindi niente, è un libro che vi consiglio, inoltre costa solo 10 euro per un libro che insomma alla fine anche dentro, ecco esteticamente è fatto molto bene. Il secondo libro che ho letto a febbraio è La terrazza pure vita di Fatema Mernissi, non so come si possa leggere il suo nome. Allora, il sottotitolo è Vieta nell'Arem, io pensavo che questo libro fosse un romanzo nel quale appunto la protagonista parlava della sua vita all'interno di un harem. Mi sbagliavo ma magari se avessi letto la collana, che è la collana a memoir, forse ci sarei arrivata, perché in pratica è la stessa autrice che racconta in prima persona la sua diretta esperienza all'interno di un harem all'epoca in cui era una bambina. Quindi non essendo un romanzo è praticamente una serie di episodi, di situazioni che la protagonista ha vissuto veramente nella sua vita quando era una bambina e viveva all'interno di questo harem. Gli harem che vengono descritti sono due, anche se uno ovviamente ha la prevalenza perché è quello dove ha vissuto la protagonista. Due harem molto diversi l'uno dall'altro, diciamo guidati dagli stessi principi ma che vengono applicati in maniera un po' diversa. Difatti nell'harem dove viveva, se non erro, sua nonna, le donne hanno abbastanza libertà di movimento rispetto all'harem dove viveva lei e quindi ecco che nascono un po' i primi paragoni. Comunque principalmente parla dell'harem dove viveva lei che era un harem dove vivevano ovviamente viveva gran parte della sua famiglia, quindi una famiglia piuttosto numerosa, il padre, i fratelli del padre, le rispettive famiglie, i nonni e così via. E appunto alcune di queste famiglie, anche se non tutte, avevano l'uomo sposato con più di una donna. Ogni donna ha un ruolo diverso all'interno dell'harem, ci sono quelle più importanti, quelle meno importanti, ma la cosa che le accomuna tutte è il fatto di non potersi assolutamente muovere liberamente, quindi essere rinchiuse tra le mura dell'harem, poter uscire solo se accompagnate dagli uomini e in occasioni molto particolari dell'anno, quindi quasi mai. Quello che principalmente la nostra autrice racconta sono i modi in cui le donne cercavano di sfuggire a questo sistema di reclusione. I modi erano, diciamo, principalmente due. Il primo era appunto quello che dà il titolo al libro, ovvero la terrazza proibita, una terrazza all'interno della quale, anzi dalla quale, riuscivano ad avere una visuale più ampia della città e anche soltanto poter vedere altre case, poter vedere le strade, poter vedere il mondo esterno era per loro una via di fuga e quindi cercavano di fuggire in questa terrazza il più spesso possibile. L'altro modo era invece quello di raccontare storie. C'erano dei personaggi all'interno della famiglia della protagonista che avevano una grandissima abilità nel raccontare, nel condividere delle storie e quindi praticamente inscenavano quasi delle pièce teatrali raccontando principalmente la storia di grandi donne del passato, vere o di fantasia, che erano riuscite a riconquistare la libertà e vivere praticamente quella che era una vita destinata solo agli uomini. Il messaggio principale quindi che traspare da questo libro è il fatto che le mamme cerchino in tutte le maniere di insegnare alle figlie a non accettare la stessa vita che hanno vissuto loro, quindi a studiare, ad uscire, a viaggiare, a cercare di essere appunto di avere l'indipendenza che loro non hanno mai avuto, anche se in realtà nei fatti possono fare ben poco, quindi la loro unica arma è istruire le figlie in modo che abbiano una mentalità diversa, una mentalità più aperta e una mentalità che le spinga a ribellarsi ad una situazione chiaramente che fa soffrire, ecco, le donne che l'hanno subita. In realtà io in alcuni tratti del libro mi sono un po' annoiata, l'ho trovata un po' pesante perché appunto magari ecco si dilungava molto su piccole cose come per esempio quando dedica diversi capitoli al fatto che le donne ci tenessero molto al loro aspetto fisico quindi facessero una serie di riti, di rituali insomma e di trattamenti alla pelle, ai capelli e così via per risultare appunto più belle, però ecco c'erano delle parti che secondo me erano un po' pesanti e quindi l'ho letto volentieri ma diciamo che proprio perché l'avevo in libreria ecco, non l'ho trovato, un libro che mi ha appassionata così tanto direi. Il terzo libro che ho letto a febbraio è stato Nelle tue mani di Gabriel Katz, penso si pronunci, comunque questo libro l'ho letto per il club del libro, comunque dedicherò un video anche alla riunione del club quindi vi parlerò insomma dell'argomento in quell'occasione, fatto sta comunque che ho letto questo libro anche perché l'avevo in libreria in quanto mi era stato regalato per Natale, da questo libro è anche stato tratto un film, non so se l'avete visto, comunque è la storia di un giovane ragazzo che vive a Parigi, che ha un talento enorme per il pianoforte, di fatti ha l'orecchio assoluto, quindi sa suonare il pianoforte in maniera divina nonostante non sape assolutamente leggere la musica, vive nei quartieri più malfamati tra virgolette di Parigi, quindi è un ragazzo un po' un teppistello che viene scovato una volta che sta suonando il pianoforte, è uno di quei pianoforti pubblici che si trovano ad esempio in questo caso mi pare in una metropolitana, viene scovato dal direttore del conservatorio di Parigi che tenta di un approccio con lui, insomma gli dà il suo biglietto da visita, ma il ragazzo non ne vuole sapere di avere niente a che fare con l'alta società parigina. Un giorno però lui fa una rapina, quindi si trova in difficoltà, ha bisogno di un aiuto e viene appunto contatto a questo direttore del conservatorio il quale riesce a tramutare la sua pena in servizi sociali e quindi dice al ragazzo che per un tot di mese invece di andare in prigione dovrà andare in conservatorio a fare le pulizie, quello sarà il modo del direttore del conservatorio per riuscire a farlo entrare in questo mondo perché crede in lui, vuole incentivare ecco il suo talento, vuole fare in modo che questo ragazzo investa ecco su questo talento e quindi comincia anche a far riprendere delle lezioni di pianoforte per arrivare insomma poi anche ad esibirsi per un concorso veramente molto importante. Chiaramente insomma nella storia viene raccontato poi come il ragazzo si orienta all'interno della scuola, come diciamo i ragazzi con cui entra in contatto, come gestisce il rapporto con i vecchi amici che abitano ancora nella parte, nelle periferie della città e così via insomma è una storia di questa rivalza ecco di un ragazzo nato nella parte sbagliata della città. Io l'ho trovato un libro che si legge bene, obiettivamente è un libro semplice, uno di quei classici libri da ombrellone quindi molto scorrevole poi guardate è scritto veramente enorme quindi scorre molto bene. Purtroppo per me la storia è di una banalità sconcertante nel senso che io dalle prime pagine sapevo già tutto quello praticamente che sarebbe successo. Se avete visto i classici film di step up cose del genere insomma vi rendete conto che è praticamente la stessa cosa cioè il ragazzo sfortunato nato nella parte sbetta della città alla quale viene data un'occasione speciale vediamo se riesce a sfruttarla per risollevare la sua vita oppure no e il finale è anche abbastanza scontato penso. Non so quindi diciamo che mi sono stupita che questo libro venisse scelto anche per la creazione di un film perché ho pensato è una storia già raccontata raccontata tante 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 volte. Ovviamente non è una storia completamente banale ovvio ci sono delle cose che magari non mi aspettavo però tendenzialmente il carattere dei personaggi le loro scelte le situazioni che si susseguono sono abbastanza banali abbastanza scontate quindi non è proprio il libro più bello che abbia mai letto. Come ho detto è una storia carina se vi piace la musica sicuramente può essere interessante è una storia che prende ecco diciamo perché comunque è una storia umana una storia di dolori umani una storia di rapporti umani e una storia di coraggio sicuramente. Ecco diciamo che il difetto principale è che forse l'autore poteva deviare da una strada già percorsa e creare qualcosa di un pochino più complesso o comunque un po' più un po' diverso secondo me. Quarto libro letto a febbraio è stato Gli squali di Giacomo Mazzariol. Giacomo Mazzariol è l'autore di Mio fratello rincorre dinosauri non so se vi ricordate l'ho letto l'anno scorso ed era il racconto del suo rapporto del suo della sua vita diciamo con un fratello con una sindrome di Down quindi era quello lì un libro molto molto intimo che comunque mi è piaciuto veramente tanto. In questo caso invece Giacomo Mazzariol si addentra nel mondo del romanzo quindi questo è un romanzo appunto racconta la storia di un giovane ragazzo che vive l'estate tra la quinta superiore e la prima scusate tra la quinta superiore dell'università un'estate di grandissimi cambiamenti perché perché lui ha fatto dei progetti ha deciso di andare in vacanza con gli amici di una vita e poi di andare all'università un'università che non fosse neppure troppo lontana da casa lui vive non mi ricordo dove comunque nel nord Italia se non erro e cosa succede? Succede una cosa improvvisa ovvero viene lui è un ragazzo che nel tempo libro particolarmente intelligente aveva progettato un'applicazione un'app che aiutasse gli studenti a scegliere il percorso di studi più adatto per l'università per l'appunto in base alle proprie capacità i propri interessi e così via e quindi questa app viene scoperta da una società che fa questo di mestiere quindi diciamo promuove elabora migliora e poi promuove delle nuove applicazioni e le mette sul mercato quindi viene contattato da questa società di Roma che appunto gli dice la tua app ci piace secondo me c'è qualcosa di veramente geniale all'interno di questa app quindi vorremmo che tu lavorassi con noi almeno i tre mesi estivi per metterla a punto e poi insomma vedere come prosegue la faccenda ecco quindi che tutti i piani di questo ragazzo vanno in fumo non può andare in vacanza con gli amici ma soprattutto si allontana per la prima volta da casa vive un'esperienza lavorativa totalmente nuova a Roma dove chiaramente entrerà in contatto con altre persone ma soprattutto si troverà davanti all'enorme scelta di dire sono pronto per essere un adulto e quindi iniziare a lavorare in questo posto che comunque mi dà tanti stimoli e che mi interessa e mi piace e abbandonare completamente l'idea di università sulla quale invece i miei genitori puntavano tanto e questo è praticamente il succo di quello che viene raccontato nel libro dove ovviamente poi insomma si vedremo le varie scelte le varie cose che succedono poi al nostro protagonista io sono molto sorpresa da questo libro perché ero convinta di rimanere delusa perché il primo libro che Giacomo Mazzarola ha scritto è stato scritto perché lui è stato contattato dalla casa editrice dopo che lui aveva pubblicato un video su youtube che gli ha chiesto proprio di fare un libro del genere quindi ho sempre avuto il sospetto e credo anche sia abbastanza fondato che il libro non l'abbia scritto totalmente da solo quindi comunque che abbia avuto una mano ecco da qualcuno invece questa sensazione qui non l'ho avuta e dato che ho detto forse questo ragazzo non era destinato a diventare scrittore in realtà ecco si vede il cambiamento qui si vede c'è più linearità all'interno del più chiaro del modo di scrittura di lui quindi non ho più riconosciuto una diversità nel senso qui sembra che l'abbia scritto un ragazzo qui sembra che l'abbia scritto un vero scrittore ecco questo non l'ho ritrovato è molto più lineare e quindi è molto più godibile e secondo me questo ragazzo ha scritto la storia in una maniera piuttosto intelligente perché ha non so che età abbia però credo sia un pochino più grande ecco magari del protagonista del libro e è riuscito ad analizzare in maniera molto bella molto profonda molto veritiera i sentimenti che un ragazzo effettivamente prova quando ha finito le scuole superiori perché tutti noi ci siamo passati le amicizie che sono nate alle scuole superiori e che sembravano eterne alcune di queste sono finite anche se questo ci è dispiaciuto anche se non lo volevamo la vita ci ha portato purtroppo su strade diverse ed è abbastanza normale e quindi analizza come si sente un ragazzo in quegli anni in cui tutto cambia e si passa dalle scuole superiori in cui ci si sente ancora dei bambini all'università in cui ci sente ormai degli adulti siamo autonomi indipendenti viviamo da soli e questo a volte spaventa però allo stesso eccitante e tutte queste informazioni tutte queste sensazioni sono ben descritte all'interno del libro quindi è una storia che si legge bene una storia che fa riflettere e che io ho veramente letto con grande piacere l'unica pecca tra virgolette è la descrizione di questo luogo dove lui va a lavorare che sembra un po tipo non so un apple store praticamente un po non solo l'ho trovata un po poco veritiero poi magari se leggete il libro vi rendete conto comunque un posto un po fuori dal mondo un'isola felice dove tutti sono tutti giovani lavorano a delle cose super fighe in un posto super figo con tutti i schermi con tutto con grande tecnologia ma allo stesso tempo grande attenzione alla salute dove i bar rendono solo centrifugati insomma l'ho trovata magari un po sopra le righe però per il resto la storia è veramente veramente carina infine l'ultimo libro letto a febbraio non ce l'ho qui con me accidenti perché l'ho reso la mia mamma ed è in viaggio contro mano anche questo libro letto per il club del libro e anche da questo libro è stato tratto un film che si chiama ella e john anche questo credo che molti di voi l'abbiano visto perché mi avete scritto su instagram diverse volte dicendo appunto che vi era piaciuto il film vi era piaciuto il libro e così via quindi questo sicuramente più conosciuto questa è la storia di due persone anziane molto anziane oltre 80 anni marito e moglie che decidono o meglio la moglie decide di intraprendere un viaggio l'ultimo viaggio perché ormai sono vecchi vecchissimi quindi sarà difficile avere l'opportunità di farlo di nuovo quindi l'ultimo viaggio nel loro leggendario camper un camper che li ha accompagnati da sempre insomma nei loro viaggi da quando avevano i figli piccoli lungo tutta 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 la route 66 per arrivare fino in california a disneyland o disney world come si chiama insomma ma che cos'è che caratterizza questi due vecchietti è il fatto che lui è malato di alzheimer quindi assolutamente inaffidabile dal punto di vista mentale però fisicamente ancora in forma lei assolutamente lucida dal punto di vista mentale ma con un terribile cancro anche se non viene mai detto dove che ovviamente la rende una persona fisicamente molto debole e soprattutto insomma incapace teoricamente di affrontare un viaggio del genere in due fanno praticamente una persona sola ma lei è ostinata non ne vuole sapere quindi all'insaputa dei figli che quando lo scoprono si arrabbiano partono per questo viaggio in camper il viaggio attraversa quindi diversi stati dell'america e ogni capitolo è uno stato diverso e vengono raccontati tutti i piccoli episodi che affrontano insomma durante questo viaggio quello che viene chiaramente descritto maggiormente sono le difficoltà che due persone così anziane devono affrontare ovviamente quindi il fatto prima di tutto la Ella la protagonista che sta male ha questo malessere lo definisce malessere che riesce a combattere soltanto grazie a delle piccole pillole blu che ogni giorno assume in maniera più consistente perché non riesce a combattere questo malessere che la tanaglia le difficoltà ad avere un marito malato di alzheimer ovviamente un uomo che si dimentica le cose che ogni volta che si sveglia chiede siamo a casa che si stupisce perché i bambini non sono con loro non ricordando che i figli ormai sono grandi anche i loro nipoti ormai sono grandi o un uomo che se lei non toglie le chiavi dal cruscotto quando si fermano potrebbe decidere di ripartire da solo perché non ricorda di essere in viaggio con la moglie inoltre i due chiaramente essendo anziani hanno delle difficoltà fisiche lei in particolare cammina con grandi difficoltà però insomma diciamo che se la cavano riesce a lottare contro questi inconvenienti della vecchiaia per portare a termine questo viaggio inoltre una abitudine che prendono durante tutto il viaggio che è una cosa meravigliosa è quella di uscire fuori dal camper per stendere un lenzuolo bianco sulla parete del camper e proiettare su di esso delle diapositive di vecchi viaggi fatti insieme parlare insieme di questi viaggi spiegare a John le cose che non ricorda o sorprendersi dei piccoli dettagli che invece sembra ricordare insomma è un viaggio tenero un viaggio pieno di imprevisti un viaggio che ci fa da una parte a volte impaurire della vecchiaia e invece altre volte vedendo la forza con la quale l'affrontano perché sono insieme ci porta a pensare speriamo di arrivare a quell'età con la persona che amo al mio fianco il finale del libro è totalmente sorprendente è un finale che come è stato detto anche da un altro membro del club del libro è un finale auspicabile ma non scontato quindi sicuramente vi saprà sorprendere e vi scalderà il cuore il libro è un inno all'amore è una storia talmente profonda di due persone che sono legate nell'anima delle persone che erano destinate a vivere insieme tutta la loro vita e che guardandosi indietro non riescono a trovare niente di cui pentirsi anche in questo caso è stato sottolineato da un membro del club una vita imperfetta ma bellissima questo è quello a cui dobbiamo mirare tutti quanti noi una vita che ovviamente non sarà perfetta perché nessuno può vivere una vita perfetta ma bellissima bellissima perché? perché abbiamo fatto quello che amavamo e insieme alle persone che amavamo questo è il grande messaggio che traspare dal libro ragazzi io non voglio usare altre parole per descrivere questo splendido romanzo perché voglio che lo leggiate è uno dei libri più belli che io abbia mai letto un libro profondo è un libro che ci fa sorridere, ci fa commuovere, ci fa provare una serie di emozioni indescrivibili io spero veramente che ricopriate questo libro perché merita merita la lettura da parte di tutti veramente di tutti quindi insomma leggetelo bene ragazzi il video finisce qui spero vi sia piaciuto di non essermi dilungata troppo ma insomma vivo diversi libri di cui parlare sono felice di aver condiviso le mie opinioni con voi ovviamente fatemi sapere se avete letto qualcosa dei libri che ho citato e soprattutto che cosa avete letto durante il mese di febbraio e se le letture vi sono piaciute e niente noi come sempre ci vediamo prestissimo con un altro video ciao